Vivere o lavorare sotto una distesa di antenne 5G non è certo rassicurante ed è giusto chiedersi se ciò comporti rischi seri per la salute. È quello che sta accadendo nel quartiere stazione di Teramo, dove negli anni sono stati installati numerosi ripetitori di telefonia mobile. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso per i residenti della zona è l'installazione di un'antenna di 10 metri che stanno posizionando proprio in questi giorni sul palazzo di via Molinari, sede tra l'altro dell'importante ente formativo Consorform frequentato da centinaia di giovani che seguono i corsi professionalizzanti. L'ente si è opposto strenuamente alla decisione del condominio che a maggioranza ha invece deciso per l'installazione. I cittadini sono preoccupati e il comitato di quartiere che li rappresenta, presieduto dal dottor Siriano Cordoni, protesta con forza. Il comitato stazione non era assolutamente informato di questa nuova installazione? Assolutamente no. Ci siamo visti piobbare una gru megagalattica qui sulla via, pensavamo che fosse il 110% delle ulteriori ristrutturazioni che stanno facendo in zona, invece a un certo punto abbiamo visto che stavano montando un'ulteriore antenna, un'antenna del 5G di cui noi siamo consapevoli che prima o poi dovremmo fare i conti con il 5G. Ma i cittadini devono essere informati. Non può essere che un'amministrazione faccia calare dall'alto una decisione così importante. In questo quartiere ci sono tantissime altre antenne. Sì, ma è proprio questa la nostra preoccupazione, che già esiste un palazzo, il palazzo delle poste, che è dove c'è una selva di antenne. Quindi ci saremmo aspettati che un piano antenne prevedesse l'inizio dell'installazione del 5G da un'altra parte, lontano, per una distribuzione equa su tutto il territorio della nostra zona. I cittadini non sono stati per niente informati. Per due giorni abbiamo avuto chiusa la strada, non c'è stato neanche un cartello. Quando un singolo cittadino deve ristrutturare un appartamento, un negozio, deve mettere cartelli, deve fare comunicazioni, deve informare, questi delle multinazionali si possono permettere di arrivare nella nostra città e mettere le antenne. Questo ci serve una cosa che l'amministrazione dovrebbe prendere nella debita considerazione. Il quartiere Stazione, insieme alla Gammarana e San Berardo, è una zona della città particolarmente popolosa. Sono circa 8.000 cittadini che risiedono in questa area, ormai non più periferica, dove insistono diverse scuole e asili.